Ciao, sono Jonathan. Sono in mezzo a nulla, qui non c'è campo. Lasciate un messaggio e prima o poi mi farò vivo. Lo voglio vedere. Ma chi è, scusi? Jonathan. Mio figlio. Suo figlio si trova in una simzone, a guardia di una via di approvvigionamento. 8 secondi. Io esigo che mi riportiate a casa mio figlio. Adesso! C'è un ballo che fa così. Avanti, avanti. Destra è stop. Indietro, indietro. Sinistra è stop. Vi siete fatti una casa. In qualsiasi direzione tu vada, torni sempre al punto di partenza. Qualche curiosità cinematografica per voi. Nella sceneggiatura di Will Hunting, in una delle prime stesure, per presentare il progetto, Ben Affleck e Matt Damon inserirono praticamente una scena gay piuttosto hard tra due professori, per testare se davvero i vari produttori l'avrebbero letta. Poi andiamo indietro nel tempo. E questa curiosità riguarda Gregory Peck, che cercò di ottenere il ruolo in Omen del 76 per combattere i propri demoni personali, come lui dichiarò. Infatti suo figlio si era suicidato proprio poco tempo prima che l'attore facesse l'audizione. Per oggi è tutto, lasciate un like se vi è piaciuto il video e vi aspettiamo anche su Instagram e Facebook. Trovate i link nella descrizione sotto il video. A presto da Valeria.